Io già pensavo che la Lazio vicesse di nuovo contro i Bayern, ma invece no. Mi sbagliavo perché era successo invece il contrario, che ai quarti di finale passa i Bayern Monaco. Davvero peccato per i bianco celesti, ma complimenti veramente ai bavaresi. Loro hanno mostrato ai bianco celesti come si gioca per davvero al calcio in Champions League. Eh sì.